Oh no, non ti permettere, Giorgi! Tieni giù le mani dal mio albero! Oh, quanto è vero che mi chiamo Barnabas! Tu? Devi essere impazzito! Quello non è e non è mai stato il tuo melo e adesso sparisci! Ah ah ah! Ma certo che è mio quell'albero! Fu proprio Ludo Barbabietola il mio bisnonno a piantarlo con le sue proprie mani! Non dire sciocchezze! I Meadowbolt sono praticamente i padri fondatori di Avestru, quindi quest'albero è nostro! Ti vuoi togliere di mezzo Barnabas? Devo abbattere l'albero! Ehi tu! Hai tutta l'aria di essere un tipo sensato forse ci puoi aiutare a risolvere la storia del melo e a riscÊN Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa desideri? Grazie a tutti. Che cosa desideri? Che cosa desideri? Che cosa desideri? Il nome del conte... Fermati! Nessuno può passare il ponte per Ferdoc senza un permesso. Grazie a tutti. Allora, ti va proprio di fare quattro chiacchiere con in mano un bel boccale della bionda di Ferdag, vero? Grazie a tutti. 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 Sono occupata. Parla con mio marito, Barnaba Barbabietola, probabilmente dalle parti del nostro albero di mele. Ehi tu! Ehi tu! Sta' attento! Il bosco oscuro non è un posto sicuro. Ci sono rapinatori e animali feroci in libertà. Ehi tu! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti pronti? Grazie a tutti. Cosa posso fare per aiutarti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passo per passo. Sarò in debito con te per il resto della mia vita. Cosa posso fare per aiutarti? Grazie a tutti. Sì. Sarò in debito con te per il resto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascialo a me. Sangue per la mia soffata. Sangue per la mia soffata. Grazie a tutti. Tutti pronti? Tutti pronti? Tutti pronti? con te per la mia soffata. Amazone pronti. Amazone pronti. Amazone pronti. Amazone pronti. Amazone pronti. Amazone pronti.